In questa fine anno 2012, i socialisti democratici al Parlamento europeo possono guardare indietro ed un anno pieno di buoni successi, ma anche di sfide difficili. Desidero ringraziare molto tutti voi, deputati, funzionari e assistenti, per il grande lavoro collettivo che abbiamo fatto insieme, conto che sapremo aprire il nuovo anno con la stessa rinnovata energia. La crisi economica in Europa e le sfide politiche e democratiche che abbiamo davanti in Europa e nel mondo continueranno a richiedere tutta la nostra unità e la nostra disciplina. Non dobbiamo dimenticare che l'anno prossimo avremo la grande opportunità di mostrare ai cittadini che noi, i socialisti democratici al Parlamento europeo, abbiamo un'alternativa da proporre non solo nella teoria, ma nella pratica e nell'azione politica concreta. Con questo impegno, buon anno a tutti e a tutte voi!